5 4 3 via 40 sinistra 3 per destra 4 lascia per 20 su ponte destra 3 più lascia per sinistra 3 lunga 20 metri gira per destra 4 lunga 20 destra 3 e subito tornante sinistra per sfiora destra e sinistra 5 40 sfiora sinistra per tornante destra sale molto 40 sinistra 5 per attenzione sinistra 3 lascia per 100 destra 2 non tagliare per sinistra 3 più lascia 30 lascia 30 destra 3 per sfiora sinistra e destra 5 40 destra 2 stai sotto per sinistra 2 apre 50 destra 4 più lascia per sinistra 5 tossata lunga piena 30 scende e attenzione sinistra 4 o meno 4 o meno 30 sinistra 3 stai sotto e subito destra 2 sporca lascia per 30 lascia per 30 dosso pieno stai centrale per ritarda sinistra 4 chiude 3 al palo 20 destra 2 per ritarda molto fine muro sinistra 3 per destra 5 80 80 e alle case stacca attenzione destra 2 stai sotto occhio in uscita 80 dosso in attenzione sinistra 3 stai sotto 20 destra 1 per ritarda sinistra 2 e destra 3 taglia 50 stop attenzione sinistra 1 150 ritarda sinistra 4 lunga lascia per 40 e ritarda destra 5 stacca diventa cartello destra 2 subivio 2 subivio diventa questa destra 4 lunga stai sotto e subito sinistra 1 sale molto destra 5 due tempi non tagliare 100 sinistra 5 100 destra 4 non tagliare 100 e attenzione destra 1 100 stai a destra destra 4 stai sotto subito attenzione sinistra 1 sale molto 50 su dosso destra 4 80 50 sfiora a destra e subito sinistra 2 più per destra 3 meno 40 sinistra 3 lunga gira stai sotto per destra 4 lascia e via per 100 alla caccia destra 5 100 sinistra 4 o meno 4 o meno per destra 5 si infulle 100 sinistri ritarda destra 3 chiude 2 rail chiude 2 rail 50 sinistra 5 rotta 150 sconnessi e al vuoto sinistra 3 lunga 30 metri 50 50 sinistra 5 per destra 5 per sinistra 5 lascia 50 vivio sinistra 3 attenzione in uscita lascia 50 3 attenzione in uscita 50 sinistra 5 50 e a cartello sinistra 2 2 tempi apre 3 al blu 20 destra 1 per sfiora sinistra per destra 4 più 40 sinistra 3 meno 3 meno per destra 3 e subito sinistra 2 20 destra 2 gira 2 gira e sinistra 3 per sfiora sinistra e destra 5 per sinistra 3 per destra 3 stai sotto per attenzione sinistra e destra 2 su ponte 2 su ponte 20 sinistra 3 meno 30 addossati sinistra 1 gira per destra 3 lunga 20 metri tieni 20 sinistra 2 per ritardo per ritardo molto dopo albero destra 3 per sinistra 3 stai sotto forse taglia tanto subito destra 2 2 tempi e subito sinistra 1 stai sotto apre e lascia per 30 sinistra 3 per sinistra 2 forse taglia tanto e subito destra 1 per sinistra 3 stai sotto e subito destra 2 gira 30 sinistra 1 lascia per 80 e al cartello destra 3 meno 3 meno 80 ancora rosso pieno ancora 40 sinistra 3 e subito sinistra 2 diventa 3 lunga per destra 4 più 30 destra 3 stai sotto per sinistra 3 meno stai sotto 10 destra 1 gira 1 gira qua per sinistra 5 30 ritardo poco destra 4 per sinistra 4 80 sinistra 4 20 e al palo sinistra 3 lunga stai sotto subito destra 1 per sinistra 5 50 sfiora destra per sinistra 2 lunga gira per ritarda destra 2 lunga 20 metri stai sotto per sinistra 3 apre e lascia 50 al cartello zebrato attenzione destra 3 stai sotto per sinistra 4 per destra 3 meno stai sotto 20 sinistra 5 80 al rovescio destra 3 subito sinistra 2 per destra 2 più per sfiora sinistra 40 ritardo destra 3 chiude 2 palo 50 destra 4 20 sfiora destra subito sinistra 2 subito destra 4 per destra 4 più per sinistra 4 lunga stai sotto e subito destra 3 2 tempi il secondo alla casa e subito sinistra 2 gira subito destra 2 e sinistra 2 30 ritardo molto destra 3 chiude 2 al vuoto 40 sfiora destra e subito sinistra 2 gira lascia per destra 4 per ritardo poco destra 3 e via per 20 sinistra 3 per destra 5 lascia per 20 destra 2 più stai sotto lascia per 30 e ritardo destra 2 gira chiude molto chiude molto questo occhio per sinistra 4 lunga 20 sinistra 3 meno e subito destra 2 gira 2 gira per sinistra 3 lascia per 20 e a rei destra 3 stai sotto subito sinistra 1 50 destra 2 secca diventa 3 e subito sinistra 2 stai sotto per destra 3 meno 30 sinistra 2 lascia per 40 e ritardo destra 3 chiude 2 vuoto chiude 2 vuoto lascia per sinistra 3 chiude per ritardo molto destra 3 e subito sinistra 3 subito sinistra 3 30 destra 4 lascia al cartello destra 3 e subito sinistra 2 per destra 4 lunga 40 metri per sinistra 2 lascia 100 sinistri vivio destra 1 30 destra 3 30 ritardo poco dopo palo sinistra 4 diventa sinistra 3 per ritardo destra 4 lunga 30 metri gira lascia giù giù tutto il gas per sinistra 5 20 sull'osso destra 4 lascia per 30 sinistra 4 più lascia per 20 sinistra 3 più 20 schiora destra 5 dai col cambio per sinistra 5 lunga 20 metri 80 schiora destra per sinistra 4 lunga 80 addossati e ai cartelli destra 2 gira 2 gira 80 ai due alberi sinistra 3 lascia per 20 sinistra 3 stai sotto per destra 4 lunga 50 metri diventa piena 50 ancora sinistra 3 per destra 5 sull'osso pieno lascia infine prova per 40 pieno 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 fine prova 11 44 4